Condizionare gli aiuti finanziari e i fondi europei in genere è il rispetto dello Stato di diritto. L'Unione Europea prova a fare un meccanismo di sanzione su misura per Ungheria, Polonia e qualcun altro. Alta sartoria giuridica. Il nuovo sistema cerca una soluzione per aggirare il veto, che rimane un'arma nelle mani di Budapest e Varsavia, contro intenti punitivi della Commissione Europea. La proposta della Commissione è di applicare la maggioranza qualificata reversibile e sarà probabilmente una parte essenziale dei negoziati al vertice, perché se lo facciamo, come ad esempio qualche discussione di bilancio, sarà utile. Se rimaniamo con il voto a maggioranza qualificata o ancora peggio con il veto, sarà difficile invece ottenere un risultato. La proposta se la deve vedere ora con una resistenza accanita in Polonia e in Ungheria. Il Parlamento di Budapest ha addirittura adottato una risoluzione che impedisce al governo di accettare qualsiasi condizione riguardante lo Stato di diritto. Con una vaga e imprecisa procedura vogliono collegare la spesa non ai valori europei, ma alle richieste politiche di globalisti europei, filoimmigrazione, antinazionali, antitradizionalisti, un'elite politica sempre più distruttiva. Commenta Laszlo Kövert, presidente del Parlamento ungherese. Per Didier Renderf invece è questione di proposte che non si possono rifiutare. In molte discussioni c'è sempre un punto di partenza per tutti i partecipanti e poi devi andare al tavolo negoziale per un compromesso. E sarà lo stesso qui per tutti i leader al vertice, dall'Ungheria e anche per altri Stati membri. Così sarà forse possibile ottenere un baratto tra la necessità di reagire alla crisi con i fondi per la ripresa e uno strumento di riconciliazione in un profondo rispetto dei valori. Anche il Parlamento europeo vuole il meccanismo della condizionalità a protezione dello Stato di diritto.